Il mio nome è Emanuela Corti. Il mio nome è Ivan Parati. Siamo WITSENS, una start-up in cui desigiamo e manufatturiamo prodotti sensibili e innovativi. Assessori e servizi con contenuti di design e contenuti elevati tecnologici, con un porto inclusivo. Stiamo sviluppando LoveWare, che è un sistema che comprise un vestito di vestito, un dispositivo dettagliabile, con un pillow che funziona come un'interfaccia, e un'app phone. Usa robotica soft per imparare le persone con imparamenti in un'emotione per esplorare la loro intimità. LoveWare vuole imparare il vestito con una esperienza tactica, accettata da pochi inplettabili, inseriti nei vestiti. C'è un pillow interfaccia che puoi toccare, caressare e scegliere, come se stessi scegliere il vostro partner, o se stessi toccando il vostro partner. Stendo toccando e esplorando l'interfaccia del pillow, stessi attivando l'emotione. Quindi il tocco è riflettuto nel vestito, sulle pochi inplettabili. Questa è la parte che abbiamo sviluppato nella nostra collaborazione con Refrim e Fraunhofer IZM, specialmente con Cristian Diels, nostro scienze in Fraunhofer. Il nostro lavoro è stato supportato da due assistenti di progetti. Il primo che dobbiamo ringraziare è Valeria Serra, un studente di ingegneria materiale, che lavorava con noi da Italia. e poi il nostro secondo collaboratore è Aisun Kim, che lavorava in Fraunhofer. Non siamo capiti di essere in Fraunhofer perché della Covid-19, quindi la nostra collaborazione con Aisun era essenziale. Abbiamo sviluppato il progetto con un psicologista, Paola Tomasello. Paola Tomasello è anche un membro di Lovegiver, che è un'associazione per i diritti delle persone con disabilità e della loro sessualità. Abbiamo creato un questionario che tradizionavamo in diverse lingue. Abbiamo trovato qualche feedback su questo questionario e alcuni partecipanti sono stati potuti partecipare in una gruppa di focus. Abbiamo avuto due gruppi di focus online. Abbiamo chiesto con alcune persone, i psicologi, e abbiamo raccontato la nostra idea. Abbiamo avuto il feedback di queste persone e abbiamo implementato il feedback nel nostro prodotto. Questo è il nostro canale! Ciò è un numero che, ciò che non mi sia quando mi sia quando mi ha. E' un numero che, Ciò che non mi sia quando mi sa. Noi ciò che ti sia. Ero dove? Qui, abbiamo fatto una cosa! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.